ciao dave eccomi qua finalmente ho deciso di mandarti questo video perché seguendoti ogni giorno ho notato che quella luce che hai negli occhi che ti contraddistingue e contraddistingue il tuo entusiasmo si sta un po spegnendo e quindi volevo farti sentire tutto il mio appoggio sai benissimo che io sono tuo sostenitore che ti stimo e quanto inconsapevolmente mi insegnato dici sempre che io ti ho aiutato nella tua vita ma lo hai fatto anche tu non riesco neanche a ricordare quante siano le volte in cui durante una tournée per i problemi che in pochi conosciamo io volessi abbandonare tutto e scappare andarmene a casa invece sei sempre stato lì al mio fianco al mio fianco ad aiutarmi e per cercare di farmi portare a termine le mie battaglie quando io ti vedo tornare dalla fabbrica con le mani sporche o quando ti vedo tornare a casa con la schiena spaccata dopo giornate di lavoro interminabili tu facevi diventare piccoli i miei problemi allora dai io non voglio dirti la classica frase fuori ti amano tutti perché non lo so sai che io esco molto poco quindi però ti posso dire che tutti i nostri amici tutte le persone che ci conoscono che ti conoscono si stanno divertendo un sacco